Una specie di minestra in brodo strana, che magari si è incastrato del fagiolo tra le corde vocali, no? Sento un po' di fagiolo tra le corde vocali, effettivamente. Sono brutta, ma non dite queste cose, non dite, non dite. Perché diceva una poesia che io conosco, diceva tra vent'anni riguarderai le foto di adesso e non eri così grasso come al tempo pensavi. Perché no, ci si vede sempre brutti quando si è a una certa età e invece poi ti rivedi dopo e dici cazzo ero proprio bello. E' sempre così, eh ragazzi, fidatevi, è così, è così. Ora non lo potete capire, però tra un po' lo capirete. Tutti belli comunque. Sostrafico, allora, sostrafico, attenzione, cioè attenzione a non errare nel senso opposto, cioè bisognerebbe, insomma, sto scherzando, eh. Però questa canzone non viene, quella di prima invece era bellissima. Questa qua di adesso...